Martedì 8 aprile, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la Rassegna Stampa, siamo in diretta, sono le 7.50 del mattino dopo la Santa Messa dalla Cappella di Santa Marta con il Papa Francesco, siamo nella settimana santa, oggi è mercoledì santo, anche se c'è nel martiriologio romano, comunque ci sono anche dei santi, ce ne sono tanti, però oggi ricordiamo che è mercoledì santo, siamo nella settimana più importante per i cristiani, il sole è sorto alle 6.36, tramonterà alle 19.44, il tempo, oggi avremo cielo sereno, guardate che bella cartina geografica che ci presenta questa mattina la protezione civile delle Marche, cielo sereno su tutta la regione con temperature che sono ancora in diminuzione, fa freschino ancora al mattino, anche se poi le temperature massime saliranno, ma comunque ancora c'è questa temperatura che potrebbe essere un po' più alta, ma in realtà ancora ci regala delle serate fresche. Dunque domani sarà lo stesso, tempo sereno su tutta la regione, così come venerdì, venerdì 10 aprile e tempo stabile anche nel fine settimana, compresa il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. Allora, vediamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo detto che c'è questa discesa, siamo nella fase discendente, i numeri sono ancora in calo e quindi questi sono numeri e sono dati che ci fanno ben sperare, ma come è sempre stato detto fino a questo momento non bisogna allentare la morsa. In realtà, a occhio, verrebbe da dire che c'è troppa gente ancora in giro. Rispetto alla settimana scorsa, forse la paura era superiore, adesso qualcuno sta allentando un po' e c'è tanta gente per le strade, forse troppa gente per le strade. E allora bisogna fare attenzione. Intanto, ripeto, per quanto riguarda la prima fase, possiamo dire che terminerà, così lo dice anche il Ministro Speranza, terminerà il 13, la prima fase, la fase 1 e da lì inizierà la fase 2. Una fase 2 che sarà importante continuare e soprattutto rispettare in tutto quello che ci verrà detto di fare. Andiamo a vedere i giornali. Questo è il resto del carino, la pagina di Pesaro. Purtroppo c'è una bruttissima notizia in apertura. Una signora anziana, una signora anziana di Fano che per paura di contagiare la nipotina, di contagiare i familiari, si è tolta la vita, si è uccisa. E questo è successo appunto nella città di Fano. Ha scritto una lettera per spiegare i motivi del gesto. Lei aveva la febbre, però non era contagiata, non aveva il coronavirus. A centro pagina invece è la fotografia di Ceriscioli in videoconferenza da casa che dice sulle case di riposo sono stati fatti gravi errori e lo ammette. Ci sono state valutazioni sbagliate, adesso indagano però i magistrati. Il titolo d'apertura del Corriere Adriato, un full hard per la fase 2. L'ordinanza di Ceriscioli non prevede solo le mascherine, dovremo proteggerci anche dopo meno ricoveri e positivi in calo. La stima dell'esperto peseresi che dice verso quota zero, zero contagi il 20 di aprile. Troppi fuori casa. Il prefetto dice guai seri a chi sgarra a Pasqua. Restano alti troppo i numeri dei furbetti in circolazione lunedì, altre 58 multe, domenica 70 e il prefetto di Pesero Urbino La Polla ha annunciato la stretta di Pasqua. Sul ritorno a settembre degli studenti a scuola c'è il problema delle classi pollaio, ovvero di tanta gente, tanti studenti messi uno attaccato all'altro. E allora qui dice, parla il virologo Clementi, bisognerà a settembre trovare delle soluzioni perché lo ricordiamo, è bene ricordarlo, il virus non è stato sconfitto ancora. Lo sarà quando ci sarà il vaccino, lo sarà quando potremmo difenderci, ma fino ad allora ci sono tanti rischi e c'è anche quello più grosso che è quello di una ricaduta ad ottobre. Quindi bisogna stare davvero molto attenti e la nostra vita prima che torni alla normalità insomma ce ne vorrà. Ecco perché bisogna essere molto cauti e molto previdenti su tutto. Poi pubblica, l'alfabeto dalla A alla Z, di che cosa ci resta di un mese trascorso dentro casa. Si era detto, scrive Andrea Taffi sul giornale, si era detto un mese fa, è un'influenza forte, non la peste, ma chi ci è passato oggi racconta, non immaginate di che cosa si tratta, un incubo. In mezzo a 30 giorni vissuti con il fiato sospeso, in tutti i sensi, quello di chi ce l'ha fatta e quello di chi invece non ce l'ha fatta. E poi quello di chi ha soccorso quello di chi la stragrande maggioranza ha barricato in casa, ha assistito a questa lotta senza quartiere. L'Italia, l'Italia fuori dalla pandemia il 19 di maggio, è una previsione, è la previsione di uno studio, lo studio dell'Aime di Washington sulla prima ondata di contagi, attesi in questi giorni gli ultimi picchi di decessi al sud. Saranno 20.000 purtroppo le vittime del morbo in tutta l'Italia. È la fine della pandemia da Covid-19 con zero decessi, osserva l'epidemiologo triestino Lorenzo Monasta, referente italiano dello studio, è prevedibile in Italia il 19 di maggio, salvo un allentamento delle misure e distanziamento sociale o un rimbalzo di contagiati. In Italia il picco delle vittime, ben 969, c'è stato il 27 di marzo. E da allora, seppure in maniera altalenante, è iniziato il declino fino ai 598 casi di ieri. E poi c'è la previsione regione per regione, questo studio analizza i dati regione per regione. In Lombardia ci sono stati due picchi, equivalenti il 21 e il 28 di marzo, mentre per quanto riguarda la previsione per le marche, dove il picco è stato il 25 di marzo, con 56, ieri erano previsti 18 casi ed esattamente ce ne sono stati 18. Quindi ci ha preso, come dire, in pieno. Per Pasqua la ricerca ne stima 8, mentre per il 19 di aprile 2 e a quota 0 si arriverà il 24 di aprile. Questo è lo studio di questa ricerca. Crollano intanto i nuovi infetti, è la svolta, la fase 2 andrà avanti per gradi. Il commissario straordinario Borrelli dice l'incremento dei malati mai così basso nell'ultimo mese. Anche i ricoverati sono sempre meno e si registra un altro boom di guariti, oltre 1.500 in sole 24 ore. Contagi sotto quota 100 verso lo 0 il 20 aprile, titolo del Corriere Adriatico. Il virus frena, l'ultima proiezione si basa sulla percentuale di infezioni. Torna per la prima volta sotto quota 100 dopo 8 giorni il numero dei nuovi casi positivi, da un lotto di ben 700 tamponi esaminato nella giornata di lunedì nei tre laboratori operativi nelle Marche. Esce dunque un dato giornaliero di 97 contagiati, decisamente a ribasso, capace di correggere i rialzi dei due giorni precedenti e confermare dunque questo trend dell'epidemia che è in frenata. Più tamponi e cure in casa invece, ma servono altri reagenti e anche camici. Queste sono le prossime mosse della Regione che appunto sta facendo di tutto per avere più tamponi sia per gli operatori sanitari per i quali la Regione sta cercando anche la via per un incentivo economico e personale delle case di riposo, sia per chi aspetta in isolamento domiciliare una diagnosi sulla positività o meno del Covid. È dunque questa la strada che vuole seguire la Regione Marche. Mentre su questa decisione di rendere obbligatorie le mascherine che sono ancora nella gran parte della Regione Marche introvabili, il titolo del Corriere di oggi è Usciamo con un Foulard e prepariamoci alla fase 2. Lo dice sempre il Governatore Ceriscioli, le precauzioni serviranno a lungo ma non posso imporre mascherine che sono introvabili. Finita l'emergenza tornerò a fare il professore, ho sognato di correggere il compito di Camilla Fabri. Questo è il sogno che ha raccontato a Lorenzo Sconocchini del Corriere Adriatico. Il fronte caldo adesso sono le case di riposo, come appunto già detto, troppe feste di carnevale ci sono state, infatti è tutto purtroppo, ma con senno di poi questo è inevitabile, si fa poca storia, si fa poca strada. Il Covid Hospital invece serve ancora, riferendosi a quello di Civitanova, e se il virus torna come la Spagnola è questo è un rischio, quello che ci possa di nuovo far trovare la sorpresa nel prossimo autunno. Obbligo mascherine deciderò con Roma, il Governatore affronta i temi caldi dell'epidemia e sui tamponi. Quando è stato il momento di spingere la Roche, la Casa Farmaceutica, ci ha lasciato praticamente a piedi, dice, mentre grazie all'avvio dell'USCA, queste unità operative che collaborano con medici e pediatri, possiamo fare le visite a casa. Adesso la quarantena, sempre l'intervista a Ceriscioli è finita, torno in Regione, il Governatore ha concluso l'auto isolamento, iniziato con la scoperta della positività di Guido Bertolaso, ricorderete quando si sono incontrati per fare i sopralluoghi ad Ancona. A parte che la cameretta è quella di mia figlia Giulia, come va nella sua cameretta? Questa è la domanda d'apertura del giornalista e lui risponde, beh, non faccia lo spiritoso, la cameretta non è la mia, è quella di mia figlia. E quindi ci stiamo poi sulla questione dell'ordinanza sulle mascherine, invece dice ci stiamo lavorando ma non sono ancora soddisfatto, voglio fare una cosa fatta bene. È difficile obbligare qualcuno a tenere degli strumenti che appunto non si trovano, come le mascherine. Mascherine invece in farmacia, le top a 6 euro, titola il resto del Carlino sulla pagina di Pesaro, la maggior parte delle comunali è rifornita, così come le private e c'è chi solo nel mese di aprile ne ha vendute qualcosa come 14 mila. Pieri di Aspes dice sono disponibili in maniera continuativa da oltre una settimana. La richiesta ovviamente è altissima in attesa dell'ordinanza regionale. Stiamo parlando delle farmacie di Pesaro e quella che vedete nella fotografia sono le famose mascherine chirurgiche, non quelle con i filtri FFP2, P3 eccetera eccetera, quelle sono soprattutto per i sanitari. Vediamo se ho saltato qualche altra notizia qua. Ecco sempre sulle mascherine si parte, titola il Corriere, la distribuzione inizia dai quartieri periferici, siamo sempre sulla pagina di Pesaro, venerdì il Comune le consegnerà a Monte Ciccardo e nelle frazioni collinari. Il farmacista Mari dice oggi aspetto le scorte, Pieri dell'Aspes la richiesta è altissima e poi sotto la storia di questa persona che insieme ad altre 300 si sono trasformate in sartine solidali e cuciono e preparano le mascherine. E qui ci facciamo seri, ci facciamo tristi perché comunque quando ci sono notizie come queste, soprattutto per noi che facciamo questo mestiere, il mestiere di informazione, di giornalisti, ci dobbiamo sempre mettere una mano sulla coscienza. La storia è di una donna 87enne fanese che ha deciso di farla finita e ha spiegato le ragioni del suo gesto in una lettera. Questa donna aveva l'influenza, non era però positiva al Covid-19. Lei però, questa donna che aveva compiuto proprio 87 anni qualche settimana fa nel pieno dell'esplosione del coronavirus, era vedova, abitava da sola in un appartamento nel centro di Fano, sopra quello del figlio che è un pensionato di 63 anni, della sua famiglia. Racconta Elisabetta Rossi questa mattina il tarlo di questa donna, questa paura che le era entrata nel cervello di contagiare soprattutto la sua piccola stellina. E quindi insomma, come dire, sono queste notizie che insomma ci fanno riflettere perché comunque possiamo immaginare anche questa donna, la sofferenza, questa donna che probabilmente seguiva anche la nostra emittente, vista anche l'età, eccetera, insomma, una signora di 87 anni non può stare certamente su Facebook, sui social o fare altro, insomma, quindi probabilmente la televisione le ha fatto il lavaggio del cervello, insomma, ecco, e quindi questo dovrebbe farci capire a volte che bisogna stare attenti anche sulle cose che si dicono, come si dicono, evitare di fare del terrorismo, a volte ci siamo cascati anche noi, lo ammetto, lo ammettiamo, ma un conto è parlare di due metri di neve, non di uno, un conto è parlare della salute e del rischio che si corre, come in questo caso, quindi forse si è esagerati, forse, non lo so, comunque, speriamo di non averla impaurita. Si è spento, il costruttore Morelli edificò mezza Monte Ciccardo, aveva 80 anni, viveva a Villa Betti, attivissimo nel circolo sociale della frazione, era stato ricoverato 15 giorni fa. E poi, ancora, la pagina dei decessi sul resto del Carlino, sale a 371 il numero dei defunti del pesarese su un totale di 652 marchigiani. È morto anche Giroli, un pezzo di storia del basket a Pesero, il coronavirus non ha lasciato scampo al marseggiatore dell'epopea degli scudetti delle coppe, il ricordo commosso di Ario Costa. E poi ci sono 15 agenti malati, il sindacato, il segretario del sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale, Federico Caratella, dice, come state, dice, assumiamo, o meglio, bisogna assumere, chiede di assumere degli agenti, perché ce ne sono almeno 5, credo, su Pesero, sì, su Pesero ce ne sono 5, intanto una quindicina fuori servizio tra quarantena e malattia, poi che hanno contratto il virus invece 5, mi pare, sì, sono malati di coronavirus. Insomma, i turni sono stressantissimi, non riusciamo, chiediamo di assumere subito i 4 o 5 agenti della graduatoria esistente, non possiamo aspettare di più, ci mancano uomini, chi va in strada ha un carico di stress lavorativo e sanitario senza uguali. Considerando che 4 agenti sono andati o andranno in pensione a breve, entro settembre non si può più aspettare, dice il sindacalista. Intanto sui controlli, perché i controlli vanno fatti e quindi servono agenti, servono polizia, carabinieri, guardie di finanza. I controlli continuano, in troppi sono stati pizzicati a spasso in questi ultimi giorni e c'è attenzione, qui va fatto un appello serio perché altrimenti vanifichiamo davvero tutto, siamo qui a parlare di contagi, di discese, di c'è, ma se noi a Pasqua ci lasceremo prendere dal fatto che siamo comunque con delle belle giornate di sole, che oggi è festa eccetera eccetera e allentiamo la morsa e non restiamo dentro casa, il rischio è che vanificheremo tutto quanto. Il prefetto lo sa, questo, Vittorio Lapolla, e quindi lancia questo annuncio, lancia questo avviso, questo avvertimento. Ci saranno tante auto della polizia, tante auto dei carabinieri, tante auto della Guardia di Finanza, tante auto della polizia in giro durante i giorni di Pasqua e Pasquetta proprio per fare controlli a tappeto. Non si ammettono, non si ammettono sgarri. Quindi il prefetto annuncia queste verifiche ancora più scrupolose nei prossimi giorni e dunque soltanto lunedì, siccome sono state elevate quasi 60 sanzioni, è tantissimo, molta gente vuol dire, queste 60 persone vuol dire che non avevano motivo di essere fuori casa, queste 60 persone vuol dire che hanno potenzialmente, sono state un pericolo. E vabbè, multato per fare benzina anche il prete si arrabbia, questo è successo a Gabice, il padre di un collaboratore del parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gardare è stato multato mentre andava a fare benzina, anche il prete si è arrabbiato. A scuola a settembre, nelle classi pollaio, difficile stare a distanza, titola il Corriere Adriatico, parla il virologo Clementi che dice attenti il virus non si spegne come una lampadina e se anche fossimo già nel pieno della fase 2 bisognerà usare comunque prudenza. Sulle mascherine obbligatorie nessun dubbio, ora sono fondamentali. E le marche al ministro dicono che servono più docenti, l'assessore Bravi ha chiesto un organico adeguato al numero degli studenti. Il conto è salatissimo quello del virus, hotel e ristoranti, meno 270 milioni di euro di fatturato, di soldi, le prime stime nelle marche, i due settori hanno perso il 44% di fatturato. Marche Nord invece cerca almeno 30 infermieri, assunzione per un anno, il bando servirà anche a formare una graduatoria. Nel frattempo si stabilizzeranno quei contratti in scadenza a dicembre del 2020. Ci mandano i pazienti positivi. Qui è il grido d'allarme del reparto di radiologia del Santa Croce di Fano. Si rischia di compromettere l'area no Covid con quella invece infetta. Stanno arrivando su richiestati medici di medicina di base delle radiografie al torace urgenti per sospetti Covid. Dirò di più, arrivano anche persone con tampone positivo in fase di guarigione per delle radiografie al torace di controllo. Insomma è un grido d'allarme e di aiuto quello che arriva da uno dei tanti operatori sanitari del reparto di radiologia e diagnostica per immagini del Santa Croce di Fano. Noi siamo preoccupati, dice questo signore, questo operatore, perché ancora oggi le sospette polmoniti vengono indirizzate dai medici di base in un reparto che è no Covid, cioè in questo momento libero, pulito, come si dice. Ed è probabile che mandando tutti questi pazienti poi questo reparto si sporchi, si infetti. Intanto la fotografia di Massimo Seri con i rappresentanti senegalesi che sono qui a Fano da 25 anni, di più di 20 anni, insomma, questa comunità che ha donato soldi per la sanità. 1.500 euro, la somma sarà utilizzata dall'amministrazione comunale per l'emergenza sanitaria. E poi le colombe, colombe e uova che sono state donate a Marche Nord, ieri a Pesaro, oggi verranno donate a Fano a riceverle il direttore dell'azienda Marche Nord, Maria Capalbo. E poi a Galantara va riservata solo ai pazienti Covid, la richiesta dei sindacati all'Asur per superare l'attuale modello ibrido. Bisogna evitare la diffusione del contagio fra degenti e operatori sanitari. E poi ancora il pesce. Sulle tavole sale il prezzo, le sardine doppiano addirittura il costo stagionale, le imbarcazioni sono andate in mare, ma con i locali chiusi la domanda è scarsa. Il direttore del mercato ittico di Fano dice garantiamo comunque il prodotto fresco. Mentre la rivincita delle botteghe, quelle sotto casa, i piccoli negozi alimentari e non solo, siamo formato famiglia e molti, diciamoci la verità, stiamo riscoprendo dopo aver fatto abbuffata di centri commerciali, stiamo riscoprendo questi negozi piccoli di quartiere, appunto sotto casa. E sono tra le tendenze più accentuate. I commercianti si impegnano a contenere i prezzi e c'è chi lavora in sinergia. E poi, ecco, questa è la pagina che volevo farvi vedere, queste due pagine, eccole qua insieme. È interessante queste due pagine che pubblica il Corriere Adriato questa mattina, sono interessanti. Praticamente l'alfabeto, dalla A alla Z, che cosa ci rimane di un mese chiusi in casa, dalla A appunto alla Z. A come anziani, per passare poi con la B di benedizione, la C di ceriscioli, D come donazioni, E come eroi, fino a Z come Zinale. E questo è un po', ve lo consiglio perché è divertente. Poi si passano, divertente, insomma interessante, carino, curioso. Buono spese, siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Già richiesto da 705 famiglie, carrello sospeso e pacchi Caritas in aiuto. Domani lo stop del Comune alle istanze per i voucher. La Caritas parla di escalation di domande. E poi una lettera aperta all'ospedale di Senigallia. È sulla pagina di Fano perché purtroppo chi ha il protagonista è una persona di Fano, è una donna che è stata portata a Senigallia lo scorso 20 gennaio ed è poi morta il 27 marzo scorso da sola e legata al letto. Mamma è morta sola e legata. Il figlio Giacomo Nucci racconta lo strazio iniziato il 20 gennaio. Hanno negato, le hanno negato la sedazione. La pagina di Fano del Corrino creiamo pacchetti turistici appetibili. Luciano Cenchini, il presidente dell'associazione albergatori consorziati, prova a tracciare la rotta per il tentativo di ripresa dopo l'emergenza del virus. Occorre capire se ci sono le premesse per continuare a finanziare le manifestazioni. Intanto dalla CNA Fausto Baldarelli, presidente della CNA di Peser Urbino, auspica una rapida ripresa del lavoro per le piccole imprese edilizie e di manutenzione. Devono ripartire, si potrebbero sbloccare i piccoli cantieri, quelli delle seconde case per esempio. Coordinamento coordinatore infermieristico nella casa protetta Castellania, Fossombrone, l'arrivo dell'operatore salutato positivamente dal sindaco di Fossombrone. Poi ancora da Fano adotta uno studente contro il Digital Divide. La campagna viene condotta da noi giovani, anche da Casa Archilei, che ricorre alla rete. Intanto Berloni, la questione dei dipendenti dell'azienda pesarese, stallo per loro, per questi operai che sono senza paga. Ora ricorso la cassa integrazione, l'emergenza sanitaria ha bloccato le trattative, rendendo ancora più drammatica la condizione dei dipendenti. I consiglieri 5 Stelle a Pesero mettono un freno alla nuova area sosta di Baia Flaminia. Chiediamo almeno una modifica al progetto che vada nel senso di una mobilità più sostenibile. Intanto questa donna compie 102 anni, Lidia in buona salute, mente lucida, acuta, con tanta voglia ancora di informarsi. Il caso di questa signora che risiede a Pesero in zona mare, che proprio oggi festeggerà i suoi 102 anni con gli auguri, ovviamente, e forzatamente a distanza, ma comunque calorosi, tra cui quelli di alcuni suoi parenti. Insomma, quindi ci mettiamo anche noi, insomma, le facciamo gli auguri per i suoi 102 anni. Intanto Vallefoglia regala mascherine alle famiglie, Montellabate ha anche uova e kit invece per anziani. Ucchielli apre una raccolta fondi per la protezione civile. Ferri chiede disegni invece sugli eroi. Ferri è sindaco di Montellabate. Mentre da Urbino, guardate questa fotografia, è la gru che, questa gru, eccola qua, vedete, che svetta sullo skyline, cioè sulla linea del cielo, cioè su quello che si vede di Urbino. E questa gru verrà tolta. O perlomeno c'è questa richiesta ufficiale. Gambini risponde al pressing delle liste di Londei. Avevano delle trattative, ora però sono finite. Nonostante i divieti imposti del coronavirus, si guarda al decoro e al rilancio del centro storico. Un carrozziere nascondeva invece un tesoretto di antichi monili, perquisizione a Tavuglia, in una casa e officina scoperti dai militari 500 pezzi. Alcuni risalenti anche al terzo secolo, pensate, avanti Cristo. Sempre da Urbino, questa volta però il Carlino, titola Urbino servizi senza soldi per pagare i mutui e non potrà pagare le rate di giugno per 665 mila euro circa. Il presidente della partecipata, Giorgio Cancellieri, ha già chiesto alle banche il posticipo a settembre prossimo, visti gli scarsissimi guadagni di questo periodo. l'incasso dei parcheggi di marzo a Urbino è stato di 400 euro. Un anno fa, lo stesso mese invece, erano 93 mila euro. Quindi tanto per capire insomma come sta andando. Chiediamo mascherina alla città di Guanggan. Italia Viva fa appello a Gambini, abbiamo un rapporto con il centro cinese. Si segue dunque l'esempio di Cagli. Mentre la farmacia comunale, sempre a Urbino, con un bando, farà un'assunzione per 12 mesi. Qui siamo sulla Valle del Cesano, a Mondolfo. Buoni spesa per 150 famiglie. Ancora domande a Mondolfo, consumati 40 dei 95 mila euro. Domani si chiude la seconda graduatoria e dunque chi ancora deve farlo a questa istanza si sbrighi. Angeli in ferie in Romagna, lo staffe di Casa Nostra, omaggio agli operatori da parte dell'albergo, antico borgo di Riolo. E poi missione turismo, terra roveresca, aderisce ai borghi più belli d'Italia. Si erogano a Fano buoni pasto per 1565 famiglie, al momento sono 705 a Fano e 860 in tutto l'ambito sociale 6, seguirà un nuovo elenco che sarà reso noto domani alle ore 13. Sono stati già ristampati i tagliandi che erano in esaurimento e sono stati di nuovo ordinati alla società che li fornisce. E c'è l'elenco nel resto del Carlino di dove poter spendere questi buoni. Poi distribuiti invece a Mondolfo 150 famiglie questi aiuti in sole 48 ore. Il Comune si è impegnato nelle operazioni di supporto ai cittadini in difficoltà. La turba di Cantiano, siamo nella settimana santa, il venerdì santo è uno dei momenti più suggestivi della storica rappresentazione sacra di Cantiano. Quest'anno è stata rinviata, tutto rinviato al prossimo anno. La decisione presa con sofferenza dai cittadini e dagli organizzatori non è un'iniziativa di tipo teatrale ma una sacra rappresentazione. L'intero Paese era mobilitato, farla in un periodo diverso dalla Pasqua non viene considerato giusto ed è ovviamente una saggia decisione. Casa di riposo, Castellani in crisi, mancano personale e mezzi. A Fossombrone l'appello alle istituzioni di Antonietta Spadoni, rappresentante del gruppo di cooperative sociali che gestisce appunto la struttura. Sulla raccolta fondi molti cittadini stanno rispondendo, mancano le solite cose ovvero mascherine e personale. Lo sport per chiudere la federazione ha detto basta, stagione chiusa per il basket, la VL è salva. Il presidente Petrucci anticipando i tempi ha ufficializzato la decisione. Pesaro dunque resta in Serie A nell'anno. Orribile. Poi bisognava capire se si potrà garantire mantenere la Serie A oppure no. Ma voglio chiudere questa rassegna stampa. Abbiamo appena fatto gli auguri a una signora di Pesaro di 102 anni ma voglio farvi vedere questa fotografia che ci ha inviato un ragazzo, il nipote di questa persona che adesso vi farò vedere questa mattina presto. Adesso ve la faccio, ve la mostro subito. È la fotografia di questa signora che si chiama Nanda, al secolo Fernanda Cordella, che è di San Lazzaro di Fossombrone e che il primo di agosto, scrive il nipote Lorenzo, dice il primo di agosto a Dio piacendo, se Dio vorrà, compierà anche lei cento anni. Ma guardate questa nonnina che è stata fotografata penso in questi giorni. Allora, come è Ligia? Ha intanto la sua zappa, il suo strumento di lavoro, gli anziani non l'abbandonano mai finché possano. Ma guardate, ha il guanto, un guanto, aspetta che ci serve questo più piccolo, ecco, il guanto, un guanto, poi ha la mascherina, indossa la mascherina e poi le chiavi al collo. Guardate che brava. Ed è la signora Nanda che salutiamo e che sicuramente ci sta guardando in questo momento. Bene, e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa. Ci rivedremo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhia Notizia. Questo è il numero di telefono che potete segnare, memorizzare nel vostro telefonino e utilizzare per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.